Sono molti gli episodi di sangue di questa estate con minori, vittime e carnefici. L'arma usata è sempre la stessa, il coltello. A maggio un diciassettenne viene arrestato per tentato omicidio a Napoli dopo aver ferito a coltellate due minorenni. A giugno, nel Torinese, un ragazzo di 16 anni colpisce all'addome con una lama un coetaneo dopo una banale lite di strada. È sempre giugno quando a Pescara, il sedicenne Thomas Christopher Luciani viene ucciso da due coetanei con 25 coltellate per un debito di soli 70 euro. Sono 68 invece i colpi inferti dal diciassettenne di Paderno Dugnano a fine agosto a padre, madre e fratellino, un'intera famiglia sterminata. L'ultimo caso, solo cinque giorni fa, Fallù, 16 anni, muore in una pozza di sangue a Bologna dopo una coltellata al cuore, inferta da un coetaneo durante una rissa. Iniziamo con questi articoli di giornale. 6 settembre, rissa a Bologna, ucciso a 16 anni, mai così tanti coltelli tra i giovani. Bologna, Fallussale, ucciso a 16 anni dopo una rissa, l'aggressore resta in carcere. Io, placato, ho colpito alla cieca. È ancora morto a 16 anni dopo una lite sui social. La madre è morto per difendere un amico. Ma che cosa sta succedendo? Il dato molto preoccupante, quello che stiamo dicendo, è proprio l'aumento del coltello. Ma come mai? I ragazzi, ragazzi 14 anni, 15 anni, che hanno così tanti coltelli. Allora, colleghiamoci subito con il professor Matteo Lancini, psicoterapeuta. Buongiorno, professore. Grazie per essere qui. E le chiedo proprio, lei lavora proprio con i ragazzi, lavora sul disagio giovanile. Allora, questo utilizzo così smoderato da parte dei giovani nel portare anche solamente un coltello nelle tasche dei propri pantaloni, non è normale. Allora, che cosa è accaduto rispetto al passato? Ovviamente bisogna conoscere le singole storie, ma è indubbio che in questi ultimi anni c'è una sensazione di insicurezza legata alla paura che fa sì che molti ragazzi escano non solo dentro delle bande, ma anche singolarmente, ce lo raccontano con questa arma che parte con l'idea che sia un'arma di difesa e che molto spesso poi diventa un'arma di offesa. È indubbio che c'è un aumento, soprattutto nelle città, ma non solo, come abbiamo visto anche dal vostro servizio, di ragazzi che escono e nella società bisogna andare in giro con un'arma. Allora, l'ultimo episodio è accaduto pochi giorni fa a Bologna. Allora, andiamo proprio a Bologna dove per noi c'è Cristina Conforti. Buongiorno, Cristina. So che hai incontrato nella giornata di ieri proprio ragazzi, coetani anche. Allora, ti chiedo, un ragazzo comunque che conoscono, tra l'altro in tanti continuano a ripetere che non ci si aspettava una cosa del genere, era assolutamente imprevedibile. Esatto, esatto. Sì, buongiorno Massimiliano. Siamo proprio nel punto, qui in Via Piave, dove ha trovato la morte. Il giovanissimo Fallù Sal, vedete i ricordi, foto, fiori. Davvero ieri un corteo silenzioso, nonostante quella pioggia fortissima, di persone che continuano a tornare qui, il dolore della famiglia di mamma Danila, ma proprio una comunità sconvolta abbiamo trovato. Sconvolta perché ci raccontano di un parco dove i ragazzi scherzavano, giocavano tra loro, a volte si attaccavano, c'erano piccoli dissidi, piccoli litigi, ma mai nulla poteva far presagire una fine tanto, tanto efferata. Per lui, che non conosceva quasi sicuramente, conosceva a malapena l'aggressore e quindi sembra proprio veramente, in questo episodio non si spiega. Il ragazzo, l'aggressore, diciamo nell'integratorio di Convalida, davanti al GIP venerdì scorso, il giovanissimo aggressore avrebbe dichiarato di atti di bullismo subiti negli scorsi anni, ma non di denunce a carico degli interessati. Dunque un litigio nato perché l'amico bengalese con lui aveva avuto dei dissidi, ma in cui non c'era assolutamente qualcosa di così grave da poter pensare di arrivare ad un omicidio di questo genere. Il coltello lo portava con sé, affermato, praticamente ogni giorno. Cristina, ritorno da te tra pochissimo. Intanto chiederei al professor Lancini. Tra l'altro proprio qui anche l'anno scorso abbiamo lanciato l'allarme per quanto riguarda le baby gang, quindi gruppi quasi organizzati da parte di giovani, anche adolescenti. Qui invece parliamo di casi più isolati, i giovani con coltello in tasca. E come abbiamo ascoltato? Per futili motivi. Cioè non c'è rancore rispetto a un ragazzo, un amico, un conoscente? In realtà sono dinamiche che si sviluppano a volte nel silenzio e a volte in effetti che nascono in quel momento lì. L'utilizzo del coltello, poi per questo dicevo le situazioni sono singole, ma ha a che fare moltissimo con questa dimensione di recupero, in poche parole, di una situazione in cui ti vivi in realtà come passivo, come impaurito e attraverso questa azione terribile è come se si sviluppasse una fantasia di un recupero, ritorni a essere protagonista, hai sottomesso l'altro, non sei più tu la vittima. Queste sono le dinamiche che molto spesso, diciamo a livello affettivo, inconsapevole, determinano questa situazione ed è indubbio che però avere un coltello in tasca aumenta enormemente il rischio appunto che questa reazione diventi così tragica. Allora le faccio vedere anche i dati del Ministero perché purtroppo sono in aumento. Lesioni dolose 2022-2023, under 18 sono passate da 3.569 a 3.639, quindi più 2%, questa è la fonte di partimento pubblica sicurezza. Tanta insicurezza tra l'altro dobbiamo dire anche da parte proprio dei giovani. Allora le chiedo perché, dov'è che sbagliamo e che cosa dovremmo fare proprio noi, anche noi adulti, ascoltare di più, star più con loro? Guardi, è chiaro che in dubbio c'è un'idea di paura fuori, c'è stata una caduta di un patto sociale da tanti anni di una comunità educante e quindi i ragazzi raccontano che c'è un'idea anche di aver paura in giro. Poi esiste un'insicurezza più ampia che ovviamente riguarda anche altre forme di disagio, quindi gesti autolesivi, che invece credo abbiano più a che fare con quello che diceva lei, con una necessità oggi di comprendere come mai, nonostante in famiglia, lo dico anche come padre, ascoltiamo i figli molto di più di quanto fossimo ascoltati noi, addirittura siamo ascoltati certamente più di quanto fossero ascoltati i nostri genitori, i ragazzi fatichino a mettere in parola le emozioni. Qui c'è un tema che riguarda la necessità di legittimare le parole piuttosto che le azioni e su questo dobbiamo interrogarci sui motivi per i quali i ragazzi faticano ad esprimere le emozioni quando un conflitto in età evolutiva non trova parola, spesso diventa agito contro se stesso e abbiamo l'aumento dei suicidi, ritiro sociale, disturbi alimentari, taglio, appunto il taglio e la violenza verso gli altri. Allora, intanto la ringrazio, grazie veramente Matteo Lancini per essere stato con noi e ritorneremo ovviamente sull'argomento, torno da te Cristina Conforti per i funerali. Cosa si dice? Sì, esatto, abbiamo avuto notizia proprio poco fa da fonti vicine alla famiglia, i funerali sono confermati per mercoledì, mercoledì 11, ci sarà una camera ardente allestita per ricordare il giovane Fallù alla Certosa, al cimitero monumentale appunto di Bologna e poi a seguire i funerali. Per ricordare questo ragazzo, davvero, dicevamo, una comunità sconvolta perché da episodi, da attacchi sui social, banali litigi, davvero non si pensava di poter arrivare a un atto del genere. Tra l'altro il questore di Bologna, aggiungendo a quello che stavi dicendo Massimiliano da studio, ha lanciato un allarme sull'uso delle armi, sull'uso dei coltelli, delle armi improprie che i ragazzini porterebbero con sé. Praticamente ogni giorno, negli ultimi due mesi, pensa, 30 sequestri. Grazie, grazie Cristina e grazie soprattutto per avercelo ricordato perché i coltelli non bisogna assolutamente portarli. Grazie. Allora, questi ragazzi, come stavamo dicendo, hanno veramente bisogno di essere eseguiti, di dargli anche una possibilità, una strada anche diversa. Allora, proprio qui in studio, vi racconteremo la storia di un ragazzo che è stato salvato dallo sport. Adesso a te Daniela.